musica c'ho piedi marmati, andiamo gente si va a fare carico delle legna dai bottegoni da massimiliano alla 2M forza c'ha quella buona c'ho piedi non mi sento più n'hanno marmati e si zizzola andiamoci si mette davanti il foo e stanno la mettere te lo dico che ne metto un metro o quando gli arriva Massimiliano a portare le legna l'ho chiamato dovrebbe venire a portare, ci porta due bombole, i GPL e le legna o io ghiaccio, mi sento più, li hanno marmati tu andiamo vieni qui, forza e ne hai foo ragazzi guarda i foo, quando fai a spengere si e spengere, adesso non si spengere nemmeno con l'acqua ai bacarello, che è legna di quella buona 2M ai bottegoni da Massimiliano e ci stanno il ghiaccio ogni cosa schianterà tutti i tubi dai ghiaccio si morirà tutta assilerati ma che scherzi, a meno che tu vai hai la 2M ai bottegoni da Massimiliano a prendiare le legna di Kellebone legne Toscane che ce le invitano in tutto il mondo persino lì Trentino ma poi non c'è mia solo le legna e c'è anche le bombole di gas GPL c'è il carbone, c'è i pellet per le stufine che le moderne sono attrezzati 2M ai bottegoni di Pistoia